Gassi in avvicinamento rapido, andate nella zona sicura. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. Fuoco autorizzato sull'amico. Sto subendo colpi! Bersaglio! Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. 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 Marco, una corazza Ho trovato colpo di discesa al levare operativa Fermo bersaglio ostile Tirador confermato Fuoco nemico, qui! Fuoco nemico, qui! A venire i casti in arrivo! Starupe! Siamo tutti nella zona sicura Questo è il Gulag Sopravvivi e tornerai in azione Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea Se perdi, sei fuori gioco Fallo fuori o conquista l'obiettivo L'hai messo male Rientrerai alla base Se hai abbastanza soldi Il tuo team può pagarti la cauzione Rieccomi in pista Mi sento già meglio Mi sento già meglio Contratto rifornimento il veicolo Raduniamoci lì Rancasato Cal biggest Rancasato Versaggio Quidi L'uido io Questa volta faccio il passeggero. Indico la meta. Ho trovato un lanciatore. Qualcuno vuole una corazza? Qualcuno vuole una corazza? Gassi in arrivo, spostamento della zona sicura. 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 Attenzione, un team nemico vi sta dando la caccia. Destinazione marcata, muoversi come non detto. Stazione medica marcata. Gassi in arrivo, spostamento della zona sicura. Sì. Vado all'attacco. Vado all'attacco. Vado all'attacco. Avete evitato l'inseguimento. Ottimo lavoro. Vado all'attacco. Vado all'attacco. Spostamento della zona sicura. Confermo bersaglio ostile. Contatto con l'emico. Sistema trophy attivo. Indico la come non detto. Segnalo un veicolo nemico. Avete del gas in arrivo. No, lasciamo stare. Il radar confermato. Siamo tutti nella zona sicura. Segnalo un veicolo nemico. Sono sotto attacco. Sono nel loro mirino. Ho avvistato del denaro. Granata tattica, laggiù. Un veicolo nemico in volo. Siamo sotto attacco. UAP nemico in volo. Siamo 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 in volo. Scassi in avvicinamento. Siamo tutti nella zona sicura. No, no, no. 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 No, no.